Vincere senza brillare, senza rubare l'occhio, succede, capita, di fronte ci sono sempre gli avversari, non è affatto un dettaglio, la Gelbison si è rivelata una squadra particolarmente ostica che corre, raddoppia, triplica, si ricompatta velocemente e ti costringe a giocare male. In realtà caratteristiche arcinote, per venire a capo di un cliente così scomodo, di solito oltre alla pazienza servono velocità nella trasmissione e qualità, altresì importante muoversi senza palla, attaccare gli spazi e lavorare bene sulle catene. Per gran parte della sfida, poco o nulla di tutto ciò, Pescara frenetico e impreciso, la panchina ha aiutato e non poco, in corso d'opera Colombo ha cambiato tutto il centrocampo e due terzi dell'attacco con l'ingresso prima di Craia e Aloy, poi di Colai, Delle Monache e Vergani. È passato nella finale al 4-2-3-1, ma a prescindere dai sistemi di gioco, che comunque hanno la loro valenza, nel pomeriggio più complicato il Pescara ha confermato di avere un'anima. Citazione per Cancellotti, il secondo gol in campionato, quarto in Biancazzurro, con tanto di fascia dopo la sostituzione di Mora, finora sempre in campo dal primo al novantesimo, da esubero a elemento di fatto indispensabile. Il paradosso, ma anche il bello del calcio, tanto di cappello a un giocatore che a 30 anni sta vivendo probabilmente la migliore stagione della sua carriera. Il merito è tutto suo. È stata dunque una vittoria soffertissima, finora la più importante.